Allora questo film, questa grande novità anche per Prato con la Cibet Film, casa di produzione, è proprio nostra? Sì, è completamente un'impresa cinematografica che nasce a Prato perché ovviamente attraverso manifatture digitali ha trovato terreno fertile, nasce sulla spinta, all'intuito, la forza economica di imprenditori pratesi, la Cibet Produzione è una casa di produzione che è interamente con soci pratesi, poi ovviamente non è stato girato qui per ovvi motivi perché il film appunto narra una storia particolare che non poteva essere girata a Prato, anche per quanto ci siano anche delle riprese fatte qua, è un pezzo di una storia che per Prato è una tradizione perché Prato è legato al cinema, ha delle tradizioni cinematografiche importanti, ha attori che non importa nominare perché conosciamo tutti, che fanno parte della nostra tradizione, io credo che bisogna salutare con grande gratitudine e grande rispetto quello che questi imprenditori hanno deciso di fare, ovviamente il meraviglioso cast del film. Ieri sera abbiamo avuto Francesco Ciampi da noi, era in diretta a White Trade, ci ha raccontato tantissimi aneddoti però non li ripeto perché così ascoltiamo il podcast della radio, però in tutte queste aneddoti è venuto fuori proprio un sentimento di questo film, mi sembra proprio un film artigianale, parlavo con Francesco che mi ricordava molto anche le aziende nostre di Prato, una filatura, aziende molto piccole che comunque tutti collaborano insieme per avere un grande prodotto finale. Io penso che possa essere un paragone che tiene, chiaramente Cibè Produzioni è un percorso che inizia ora, che ha ovviamente in questo momento il primo sviluppo di questa idea, però intanto va a Cannes, oggi la presentazione è qui, stamattina la presentazione alla stampa che per le notizie che mi vengono riportate è andata molto bene, effettivamente è un po' una storia pratese, questo di sicuro, si parte dal piccolo, si parte con una sorta di prima, però poi si conquista il mondo, si va a giro per il mondo a vendere i nostri prodotti. Io penso che anche questo nuovo filone potrebbe essere un'ulteriore storia di successo di questa straordinaria città. Grazie mille al sindaco di Prato, Matteo Biffoni, per una sera in questi giorni ci riposiamo un attimo da questi giorni estenuanti. Sì, va bene, questo oggettivamente io l'ho sempre detto, prima viene il ruolo dal sindaco fino all'ultimo giorno, poi viene tutto il resto. Questo è un momento, come abbiamo appena detto, di celebrazione di un fatto, di un evento importante per la nostra città e devo dire che sono molto contento di essere qui, ringrazio ovviamente Riccardo e tutta la Cibè Produzioni per l'invito ma anche e soprattutto per l'organizzazione e per l'attenzione che hanno dedicato alla nostra città per questa prima. Non era scontato, non era banale e io davvero li voglio ringraziare ed era doveroso che chi rappresenta la comunità tutta stasera fosse qui. Grazie mille, buona serata.